Un altro importante passo in avanti verso la erogazione di servizi sanitari ed assistenziali di qualità a disposizione dei cittadini calabresi e non solo. Tra l'INAIL nazionale e l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro è stata definitivamente sottoscritta la convenzione per la operatività di un polo integrato che garantisce prestazioni sanitarie, riabilitative e protesi cambulatori e domiciliari sia a seguito di infortuni sul lavoro che ai cittadini disabili assistiti dal servizio sanitario nazionale e quanto afferma in una nota Enzo Bruno già presidente della provincia di Catanzaro e componente dell'assemblea nazionale del PD. La convenzione operativa sottoscritta dal direttore generale INAIL e dalla commissione straordinaria ASP di Catanzaro colloca il polo integrato in ampi idoni locali all'interno della fondazione mediterranea Terina. La nuova struttura è coordinata ad interim dal dottor Livio Perticone primario di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Lamezia Terme. Spiega Bruno il centro protesi ha già la disponibilità di 12 posti letto di un'equip di medici fisiatri, ingegneri, tecnici ortopedici, fisioterapisti, psicologi ed assistenti sociali che garantiscono un elevato standard qualitativo all'utenza in materia di riabilitazione da disabilità congenite o acquisite di natura traumatica, vascolare e oncologica anche con la predisposizione di protesi per tutti i livelli di amputazione predisposta ad personam dall'officina ortopedica ubicata all'interno del centro con professionalità e strumentazione di alta tecnologia. Si deve pertanto dare atto che pur se in un periodo ormai lungo di pandemia da covid-19 che ha messo a dura prova le strutture sanitarie del paese, l'INAIL e l'ASP di Catanzaro hanno reso operativo un polo sanitario integrato di importanza regionale strategica, conclude Bruno, tale da consentire il superamento di un gap notevole in materia di prestazioni sanitarie, riabilitative e protesiche delle quali possono fruirne i cittadini calabresi e tutta l'Italia centro-meridionale.